Il narcotrafficante Raffaele Mauriello, uno dei latitanti più pericolosi d'Italia, che si trova a Dubai, verrà presto estradato nel nostro paese. Il via libera è arrivato dalle autorità di Abu Dhabi, arrestato negli Emirati Arabi il 16 agosto del 2021. Il giovane boss del clan amato pagano di Scampia è accusato di due omicidi avvenuti nel napoletano, oltre che di violazione della normativa sulle armi.